Svolate, eravamo svolate in una casa modesta, che era la mamma, la figliola, il marito l'aveva via, l'aveva, ma non in guerra. Il figliolo invece l'aveva soldato e questa donna era una donna anche un po' difficile come carattere, molto difficile, non era diciamo proprio sinceramente normale. E cosa si mangiava? La tessera, quello che ci ha, quel pane nero, quella pasta nera. E le più volte quando aveva qualcosa, la mia zia che aveva un negozio di alimentari, qualcosa al mercato nero, non ce lo dimentichiamo, e allora un po' d'olio ci portava, o ci portava diciamo un chilo di riso, sempre al mercato nero, e un po' di pasta nera al mercato nero. Perché? Cosa facevano? La gente che moriva la denunciava, e quelle cedoline naturalmente che dava al governo, diciamo così, per prelevare, e loro prelevavano, e lì naturalmente facevano un mercato nero, senza vergogna, cosa che in casa mia non è mai esistita. E il mio povero papà aveva messo, siccome avevamo un bar naturalmente, aveva messo, ecco, ha investito quei pochi soldi nella roba, ecco, diciamo nel Verbrut, a quei tempi nel Verbrut Martini, o poi insomma c'era l'anacità, tomato e i vini, qualche cosa. E quando si vede proprio la marparata, cosa si fece? Simulò questo, diciamo, scantinato, ecco, e ci si mise qualcosa che si poteva, diciamo così, ricavare. Poi si svolò e si andò a finire in monte, a monte di San Giovanni, naturalmente, e c'eravamo diversi, venne anche il mio zio, la mia zia, la mia cugina, e poi altra gente, di Livorno, insomma, eravamo così. E fra tutti si costruì una capanna, diciamo, con i pini tagliati, piccoli, e si portò dietro un paio di coperte di lana, e non c'era un'altra, e come si vedeva, c'era una fontina distante, perché la capanna rimaneva proprio in un rio, c'era il rio, e poi al monte naturalmente si appoggiava questi pigni, facendoci la capanna, diciamo, e eravamo in tanti, perché tanta gente e ci chiedevano aiuto, insomma, alloggio, insieme. E allora cosa si faceva? Quello che c'era, di cosa c'era? Niente. Allora, mia cugina andava a spigolare, con quel grano, quel po' di grano che si aveva, mi provavo con un macinino, macinava un po' di farina, una schiacciatina, andare a prendere l'acqua per bere da questa fontina, che ogni tanto c'era il bombardamento, e io entravo dentro il casottino, dove c'era questa cannellina che buttava a filo, per prendere un fiasco, due d'acqua, almeno per bere, perché quella del rio non si poteva bere, perché la gente magari si lavava, o per forza, e quindi, allora cosa, mi presse la febbre, mi venne tante cose, e tanto mal di stomaco soffrivo, ma cos'era? La fame, la fame. Io poi, chi portava le pannocchie, le mettevano, si faceva un po' di fuoco, le arrostevamo, si mangiavano le pannocchie, ma io, la verità, non saprei, ecco, mi rimaneva difficile a dover mangiare quelle pannocchie, quelle melucce, con la cascata in terra, con il baco dentro, e quello, non ne parliamo, e naturalmente, eseguono qualche meluccia, cascata, e non c'era altro, non c'era nulla, niente. Poi di lì, ci mandarono via i tedeschi, vennero con fucili e così, via via, al final di Ardamonti, di noi, con la mia paura mamma che camminava male, con il mio paura papo che anche lui col cuore, lo zio, lo stesso, aveva insufficienza cardiaca, insomma, e dal final di Ardamonti, noi si arrivò a Buti. A Buti era tutto diverso, sembrava quasi che la guerra non ci fosse, appena si arrivò, si sentì le campane che sono là. Io e la mia cugina si abbracciò e si cominciò a piangere, perché ci pareva una cosa, ma non so come, e ci trovavano, dai dai, un frantoio, e ci si rifugiò in questo frantoio. Ma vi potete immaginare che in questo frantoio abbandonato dove c'era, dove a quei tempi si usavano l'olio, tutto attrezzato. E lì, bombardamenti, perché i tedeschi quando si ritiravano, bombardavano, lì c'era un ponticillino per arrivare giusto dove era questo frantoio, e buttarono giù anche questo frantoio. E poi noi, rimpiantati dietro a queste macchine grandi, rimpiantati lì la notte perché vendero, e noi stavamo zitti e zitti. E una mattina, una mattina, io mi ricordo che mi sentivo tanto male, e mi venne la febbre. E non riuscivo a dormire in terra, vero? In terra non si dormiva, io tutti con questa coperta. E sentivo tutto un tratto, sentivo, acqua, acqua, acqua. Io risi, cosa sia questo dire? Poi, grande scarpicciamento, come gente che correva, che camminava, che faceva un po' di chiare. Allora io zitta, zitta, ma facciai, e vedi che erano arrivati gli americani. I primi mandavano i negri, e poi veniva il resto. Allora io dissi, il va, il va alla mia cugina, erano arrivati gli americani. Ma stai zitta, c'è la febbre a 40, venne fuori con gli americani. Di Dio di sì, di Dio di sì. Infatti, dai dai, si si svegliò tutti. E infatti, si vede che era arrivato gli americani. Ecco.